La storia della salvezza è una storia di eccomi e il Signore è sempre pronto al confronto con l'uomo anche quando inizialmente non vuole seguirlo. Lo ha detto Papa Francesco celebrando la messa a casa Santa Marta. Nel corso dell'Omelia il Pontefice ha chiarito che il Padre Celeste ha sempre tanta pazienza e apprezza l'onestà mista anche allo sbarrimento dei propri figli. A lui piace discutere con noi. Qualcuno mi dice ma padre io tante volte quando vado a pregare mi arrabbio col Signore ma anche questa preghiera a lui piace quando tu ti arrabbi e gli dici in faccia quello che senti perché è padre. Ma questo è anche un eccomi o mi nascondo o fugo o faccio finta o guardo da un'altra parte. Ognuno di noi può rispondere come è il mio eccomi al Signore per fare la sua volontà sulla mia vita. Come è che lo Spirito Santo ci dia la grazia di trovare la risposta.